Sì, è stata un'azione repentina che ci ha permesso attraverso le testimonianze dei cittadini e l'analisi dei filmati di videosorveglianza di poter individuare la targa dell'autovettura con la quale i rapinatori si erano allontanati e da lì è poi nata tutta la nostra attività successiva che è stata molto veloce.